Credo che ognuno di noi sia riconoscibile attraverso il proprio carattere. Il mio è razionale, direi discreto, nel senso che non ho tendenza a quello che è l'urlato e forse do molto valore al senso estetico nelle cose, quindi do molto valore a quello che per me vuole dire bello. Credo innanzitutto per anzianità, perché purtroppo dopo tanti anni quella che altrimenti detta esperienza è tempo. Il tempo ha modificato tanto le cose, non le ha modificate solo per me, non le ha modificate solo per come approccio io il progetto o per come vedo io un prodotto, le ha modificate in generale, la percezione del design, della decorazione, tutto è un concetto che si è evoluto, che si è esteso e questo ha messo noi nella condizione di dovere in qualche modo capire come questa cosa si è evoluta, come è modificata e come rispondere a questo. quindi direi che la continuità forse sta nell'aspetto più personale, cioè credo che ogni progettista, ognuno di noi lavori e si esprima fondamentalmente riferendosi al proprio carattere, quindi come si è fatti, a che cosa ci piace, quali sono i nostri interessi. Questo non è cambiato, sono cambiati nel senso che si sono evoluti, sono maturati, però il fatto che siano loro l'origine del nostro modo di procedere nel lavoro è sempre lo stesso. I miei riferimenti culturali sono mutati. Inizialmente il riferimento erano i grandi architetti, i grandi designers, quando i designers erano solo architetti, quando non c'erano i veri e propri designers, quindi diciamo i miei punti di riferimento sono quelli che sono stati l'evoluzione del percorso di studi che ho fatto e tutto. Però questo era l'inizio, adesso il loro lavoro lo conosciamo, il loro lavoro l'abbiamo esplorato in tutti i sensi e i riferimenti in questo senso si sono anche ampliati. Diciamo che ora è più un fatto di passione, le passioni sono mutate, quindi vado più all'arte contemporanea, moderna, diciamo che sono ancora un buon elemento per capire da che altro punto di vista guardare il bello. L'approccio non differisce da quello che è rispetto al progetto che fai all'interno di una casa e tutto. L'atteggiamento è lo stesso, l'attitudine pure, quindi è soltanto che è cambiato il modo di leggere all'esterno, nel senso che è diventato veramente un ambiente e quindi su questo si è cominciato a ragionare, si è cominciato a lavorare, si è cominciato a avere tutto un contorno di materiali, di informazioni, di possibilità o anche di opportunità che non venivano prese in considerazione e quindi forse anche trascurate. Il processo del prodotto è sempre l'idea, lo schizzo, il disegno tecnico e il prototipo. Per me il prodotto è prodotto quando non vuoi più metterci le mani, non ho mai avuto modo di arrivare ad un prodotto dal disegno, farlo diventare subito un prodotto che potesse funzionare o funzionarli. C'è sempre stata una fase di rielaborazione, anche di dubbio su quello che era la fase di avanzamento del prototipo. Quando il dubbio si in qualche modo esaurisce è quando sei convinto che il prodotto ha raggiunto la sua completezza. La tecnologia e i materiali, l'uso degli stessi materiali, è parte integrante del processo di progetto di ogni prodotto. Quando questi entrano in relazione con il progetto è differente ogni volta, cioè dipende dal prodotto che stai disegnando. A volte è la tecnologia che o è il materiale che ti induce a disegnare una certa cosa. A volte vai a ricercare una tecnologia per rendere al meglio quell'idea che in qualche modo stai cercando di concretizzare. È difficile pensare di generalizzare un premio, come nel cinema, c'è il premio al miglior attore, c'è il premio alla migliore sceneggiatura. Anche nel design, nel nostro lavoro, il premio deve avere un'attribuzione sul significato del prodotto, cioè può essere per i materiali che usa, per la sua ecosostenibilità, per la sua estetica, per la sua commerciabilità, per il risultato anche nelle vendite, dipende. Allora credo che un prodotto possa essere un prodotto da premio quando dimostra di sapere essere performante in quella sua specificità. Io faccio fatica a capire quale potrebbe essere lo sviluppo dell'e-commerce nel nostro settore. Non perché non ci creda, ma perché per me è difficile pensare di poter valutare un prodotto da una semplice fotografia. Il prodotto è fatto da tante cose, soprattutto i prodotti delle nostre aziende sono prodotti che in qualche modo sono vincenti oltre all'aspetto estetico anche per la qualità intrinseca di questi prodotti, dei materiali, cioè tutto quello che viene messo dietro al prodotto. E secondo me questo è un po' difficile valutarlo nell'e-commerce. Sia contemporanei al nostro tempo, quindi vuole dire essere attenti a quelle che sono le mutazioni del nostro tempo, quelle che sono le sensibilità del nostro tempo. Contemporanei vuol dire non perdere l'attenzione su chi abbiamo intorno e come stiamo vivendo il nostro mondo. Forse quello che mi manca e quello che mi sarebbe piaciuto saper fare era dipingere. So disegnare, so disegnare a mano libera, non uso il computer, non sono capace di usarlo, quindi continuo ad usare la mano per disegnare, però non è quello che considero essere un artista. Per me il lavoro dell'artista è il lavoro del designer, anche se ora qualcuno fa confusione. In questo senso, a mio parere perlomeno, sono molto differenti. Si parte da due visioni diverse del mondo e la mano è uno strumento differente. Sono più geloso degli affetti, sono più legato ai rapporti e tutto, quindi ora come ora la cosa fondamentalmente alla quale non potrei rinunciare è il mio cane. Noi, noi, noi. Grazie.